nel 2002 apri questa barberia questa piccolissima barberia di 25 metri quadri da lì ho iniziato il mio percorso lavorativo se Martin sin dal primo giorno ha soddisfatto subito le mie aspettative mi sono reso conto che mi interfacciavo con persone veramente competenti strutturalmente ben organizzate sono rimasto veramente serrefatto dalla loro professionalità sono stato veramente contento per come mi hanno seguito volevo ringraziare se Martin per quello che ha creato nella mia struttura